Tutto è nato da una semplice domanda posta in classe dal professore. Un acquisito a cui sembrava non esserci soluzione, ma la caparibietà, la passione per i numeri e la voglia di divertirsi tramite la ricerca hanno portato alla scoperta di un metodo finora sconosciuto alla comunità scientifica. È la storia di un ragazzo di appena 15 anni, Marco Gianassi, studente della seconda S dell'indirizzo tradizionale del liceo scientifico Livi, che ha inventato un criterio di divisibilità generale. Si tratta di un metodo che consente in pochi passaggi di capire se un qualsiasi numero sia divisibile o meno per un'altra cifra. Stavamo studiando i criteri di divisibilità dei numeri e mi sono chiesto se ce n'è uno che vale per tutti i numeri indistintamente. Non esisteva una risposta a ciò e quindi ho deciso di cominciare a provare a farne uno. Marco ha lavorato al nuovo metodo durante il lockdown, presentando di volta in volta i risultati al professore di matematica Michelangelo Manetta e ai suoi colleghi del Livi, fino ad arrivare alla soluzione definitiva che è stata certificata da alcuni professori universitari e pubblicata anche sulla rivista Archimede dedicata agli amanti della matematica. Lo studente è stato pure premiato per la sua scoperta e adesso manda un messaggio a tutti i coetanei. Credo che la matematica possa essere una possibilità anche da trovare e da sfruttare anche con persone, può essere un passatempo, più un gioco anche che solo un'ossessione o qualcosa che non ti fa dormire la notte. La preside del Livi, Maria Grazia Ciambellotti, spera che la storia di Marco possa rappresentare uno stimolo per tutti gli altri studenti per avvicinarsi a una di quelle materie che viene definita killer nei consigli di classe ma che invece con la giusta passione e insegnamento può diventare un'opportunità. Se creiamo nella classe le condizioni per un approccio alla matematica che non sia trasmissivo, ripetitivo ma che possa risvegliare la mente verso la creatività, verso le intuizioni, verso una partecipazione attiva dei ragazzi, ecco che si possono creare quelle condizioni per intuire anche cose nuove, per scoprire. Dopo i vari riconoscimenti, per il futuro Marco ha già le idee chiare. Spero di diventare un professore di matematica e di studiare sia matematica che fisica all'università e così, quindi insegnare questa mia passione anche ad altri ragazzi.